In questo video, prima di passare all'argomento espressioni regolari, introdurremo una feature importantissima del linguaggio, gli hash. Buona visione! Gli hash sono delle strutture dati simili agli array ma allo stesso tempo profondamente diverse. La differenza sostanziale risiede nel fatto che gli hash indicizzano i valori per key anziché per indice. Le key non sono nient'altro che delle stringhe univoche alle quali viene associato un valore e il valore così associato può essere ripescato dall'hash semplicemente specificando la key. Proprio per questo motivo vengono chiamati anche array associativi. Ma guardiamo un esempio per capire meglio. Per creare un hash si usa lo specificatore percentuale seguito dal nome che vogliamo assegnare al nostro hash. Dopodiché si aprono le parentesi tonde e si inizia ad inserire le coppie key value. Quindi, in questo caso, Mario è la key di Rossi, Gianni è la key di Bianchi e Luca è la key di Verdi. Dopodiché si stampa in output la value collegata alla key Mario andandola a ripescare passando all'hash nomi-cognomi la key Mario. Da notare che va richiamato utilizzando lo specificatore dollaro. Per passare una key ad un hash, come vedete, si aprono le parentesi graffe e si inserisce al loro interno la key desiderata. Quindi, se eseguiamo lo script, abbiamo in output la stringa cognome di Mario Rossi, perché la key Mario contenuta nell'hash nomi-cognomi è assegnata al valore Rossi. Dal momento che il Perl non ci mette troppo alle strette con modelli troppo rigidi e disintassi, vi consiglio di formattare il codice in modo tale da renderlo il più chiaro possibile per voi. Nell'esempio, invece che inserire tutti i valori sulla stessa linea, li ho disposti a coppie. E guardate già come il nostro hash risulta più chiaro e più pulito, ma soprattutto sempre perfettamente funzionante. Volendo, potete pure far ricorso alla funzione qw per utilizzare i delimitatori che più vi aggradano, ma soprattutto per risparmiarvi il non poco sbattimento di dover inserire i valori tra apici e le virgole separatrici. Che bellezza! Come abbiamo detto in precedenza, un hash è simile ad un array e l'unica differenza è che gli hash sono strutture dati associative, poiché per l'appunto associano un valore ad una chiave, mentre i classici array sono strutture dati posizionali, poiché i valori sono indicizzati per posizione. Ma scartando il differente metodo di indicizzazione, quello che ci resta sono due strutture dati perfettamente equivalenti. Ed è proprio per questo che il Perl ci consente di eseguire dei trick in tutta agilità da array ad hash e viceversa. Esempio chiarificatore. Si crea l'hash nomi-cognomi e successivamente si copia pari pari il suo contenuto all'interno dell'array nomi-cognomi. Dopodiché ciclo forward sull'array nomi-cognomi che stampa ad ogni iterazione ciò che si trova in posizione i dell'array nomi-cognomi. Guardate un po' l'output cosa ci fa capire? Come vedete ad ogni iterazione è stato stampato un elemento e inoltre l'array nomi-cognomi risulta essere composto da sei elementi. Vediamo cosa è successo dietro le quinte. Quando abbiamo copiato il contenuto dell'hash nomi-cognomi nell'array nomi-cognomi, l'interprete, visto che ha trovato due strutture dati equivalenti, ha convertito implicitamente il formato dell'hash nomi-cognomi per copiarlo senza creare problemi all'interno dell'array nomi-cognomi. Quindi ha convertito le quinte in valori e una volta finita la conversione ha assegnato ad ogni valore un indice. Ed ecco qua come un hash può diventare tranquillamente un array. Così com'è possibile trasformare un hash in un array è possibile trasformare un array in un hash. Nell'esempio si crea l'array nomi-cognomi e si copia il suo contenuto nell'hash nomi-cognomi. Dopodiché si crea un ciclo for each dove ad ogni iterazione sull'hash nomi-cognomi si assegna alla variabile key una qualsiasi chiave utilizzando la funzione case. Infine si stampa in output ogni singola coppia key value così recuperata. Eseguiamo lo script ed ecco in output le coppie key value perfettamente formate. Il procedimento è l'esatto opposto di quello visto nello schema precedente. Essendo l'origine un array, quindi una struttura dati posizionale, mentre la destinazione un hash, quindi una struttura dati associativa, l'interprete forma delle coppie key value partendo dall'indice 0. Quindi prima coppia 0,1, seconda coppia 2,3 e terza coppia 4,5. Una volta formate le coppie, le copie pari pari nella destinazione prefissata. E così un array diventa un hash. Un'altra particolarità. Fate molta attenzione all'output. Al primo giro abbiamo come primo risultato la key Luca seguita dalla value verdi. Ora rieseguiamo lo script e guardate un po'. Alla seconda esecuzione abbiamo la key Mario e seguita dalla value Rossi. E se rieseguiamo lo script di nuovo, ci riappiamo di nuovo Luca Verdi. Rieseguiamolo un'altra volta, ci riappiamo Mario Rossi. Un'altra volta ancora Luca Verdi. Un'altra volta ancora Luca Verdi. Un'altra volta ancora Mario Rossi. Gianni Bianchi ma è strano. Luca Verdi, Mario Rossi, Mario Rossi. Oh finalmente Gianni Bianchi. Volevo farvi vedere che l'ordine di output è puramente casuale. Ciò accade poiché un hash è una struttura dati associativa e non posizionale. Quindi i suoi elementi, non essendo ordinati per indice o per posizione, come vi pare a voi, non seguono un ordine ben definito. Possiamo risolvere questo problema semplicemente ordinando le key una volta recuperate utilizzando la funzione sort. Rieseguiamo di nuovo il tutto e come vedete adesso le coppie vengono stampate in ordine alfabetico secondo key. Quindi prima Gianni Bianchi, poi Luca Verdi ed infine Mario Rossi. E come vedete l'ordine di output non è più affidato al caso. Diamo ora un'occhiata alle funzioni case e values. Queste funzioni restituiscono rispettivamente una lista contenente tutte le key e tutti i valori del hash passato come parametro. Nell'esempio si crea l'hash nomi e cognomi e successivamente si estraggono tutte le chiavi e tutti i valori attraverso le funzioni case e values salvando i risultati così ottenuti in due array dedicati. Infine un ciclo for che ad ogni iterazione stampa ciò che si trova in indice i dei due array andando così a comporre e a stampare le coppie. Eseguiamo lo script ed ecco qua le nostre coppie. Se si vuole inserire una coppia all'interno di un hash bisogna richiamare quest'ultimo, aprire le parentesi graffe, inserire la key da aggiungere, in questo caso la key è mela ed associarle immediatamente un valore. Eseguiamo lo script per conferma e come potete vedere la coppia è stata aggiunta con successo. Se invece si vuole togliere una coppia da un hash si può utilizzare la funzione delete. La funzione delete cerca la key passata all'interno dell'hash e una volta trovata elimina la coppia. Infatti se si esegue lo script abbiamo uno warning che ci avverte che si sta cercando di utilizzare un valore non inizializzato facendo riferimento al nostro hash frutta e successivamente abbiamo in output la stringa colore mela senza la value rossa poiché è stata precedentemente eliminata dalla funzione delete. Come fare se vogliamo verificare la presenza di una coppia all'interno di un hash? Si utilizza la funzione exist. Questa funzione restituisce true se la key passata all'hash viene trovata in caso contrario false. Nell'esempio si passa come argomento alla funzione exist il nostro hash frutta specificando la key mela e se eseguiamo lo script come previsto abbiamo in output la value di mela poiché presente all'interno del nostro hash frutta. Proviamo adesso a cercare la key uva che non esiste e come vedete abbiamo in output la stringa nada poiché la funzione exist non trovando la key uva restituisce false e di conseguenza viene eseguito il blocco else. Direi che pure per questo video è tutto per qualsiasi cosa vi invito come al solito a lasciare un commento. A risentirci!